Ad esempio il discorso dei videogiochi, la famosa è una vera e propria bufala, almeno al momento le ricerche, ossia il videogioco violento che genera ragazzi violenti, questa è una cosa che faccio ancora fatica a sentirla. Secondo te perché è una bufala? Allora è una bufala perché innanzitutto è un discorso che ho sentito, come puoi immaginare Matteo, io sono sempre stato un grande giocatore sia nelle sale giochi, poi a casa, con i primi on computer, le console, poi anche cartaceo, gioco di ruoli, io penso di aver giocato a qualunque cosa di ruolo ad esempio. Eppure non mi sembra di essere venuto su tanto male, non è che vado in giro ad ammazzare gente perché da piccolo facevo il guerriero e uccidevo draghi. Però attenzione perché, ecco questa è un po' l'idea, le ricerche, in realtà alcune ricerche almeno, hanno scattato una fotografia e hanno trovato effettivamente una correlazione tra quantità di utilizzo, di ore, di gioco ai videogiochi violenti e grado di aggressività e rabbia percepita dal ragazzo. Ok? Quindi c'è un rapporto direttamente proporzionale. Però attenzione perché qual è solo la fotografia? Se noi andiamo a vedere il film, molto spesso non è il videogioco che rende il ragazzo violento, ma il ragazzo che percependo dentro di sé questo disagio trova nel videogioco la possibilità di scaricare queste tensioni. Quindi ritorniamo al discorso di prima. Esatto, esatto. Anzi, da questo punto di vista, addirittura, in molti casi, il videogioco ha un effetto catartico. È un po' come lo stadio. La gente che va a sfogarsi allo stadio durante la partita, poi c'è di lì che è un pecorone, un agnellino, ad esempio. Adesso la sto mettendo ovviamente da gerata, però alla fine è quello, se vai a vedere. Ok. Ad esempio, poi c'è anche da parlare di tutto il disagio sociale, ad esempio. Io mi ricordo, ti cito un aneddoto molto veloce, lo racconto sempre, di un ragazzino, alle medie, che giocava sempre a GTA. E sappiamo bene che GTA è quel videogioco dove tu impersoni un delinquente, alla fine che deve farsi strada lungo la gerarchia della malavita di quella città. E quindi ovviamente ruba, uccide e via di tutto quanto. Allora, lui continuava a ripetermi che GTA rappresenta la vita reale. Ovviamente la madre è allarmata, l'assistente sociale è allarmata. In realtà poi andando a vedere, io poi avevo visto la zona in cui questo ragazzo abitava. Era una classica zona dimenticata da Dio, in un quartiere di Milano, in cui, in pieno pomeriggio, nei giardinetti, sulle panchine, i ragazzi si facevano le canne e spacciavano l'impossibile. E si facevano dell'impossibile, alla luce del giorno. Quindi questo ragazzo che tornava da solo poi a scuola, il pomeriggio attraversava questi territori, dove ne vedeva di ogni. Allora ecco che poi, giocando a GTA, ritrovava più o meno le stesse situazioni, in qualche modo ovviamente, rappresentate. Allora ecco che GTA rappresenta la vita reale. Ma non perché questo ragazzino fosse influenzato a GTA, sia mai il contrario. Questo ragazzino aveva trovato in GTA le conferme del mondo in cui lui viveva, di quel quartiere lì. Quindi attenzione, perché in generale, quando parliamo di tutte queste cose, dobbiamo sempre fare molta attenzione, come ho detto prima, a non confondere la causa, con il canale attraverso cui questo disagio si esprime. Ok, quindi potremmo, tu consiglieresti per esempio a un genitore di cedere magari alla richiesta di un videogioco particolarmente cruento al proprio figlio? Beh, lì dipende dall'età ovviamente. Questo bisogna comunque sempre rispettare il grado di maturità e il livello esatto di evoluzione del nostro ragazzo. Questo sicuramente, perché a un bambino di 8-9 anni non vado a dare ad esempio un videogioco che è Peggy 18, dove ci sono riferimenti di violenza, ma in alcuni casi anche riferimenti sessuali e via di questo passo. Quindi, insomma, gli stessi accorgimenti che io adotterei con un fumetto o con un film, li adotto anche per il videogioco. Certo, quindi non è un no apioristico, ma piuttosto è una valutazione che sempre noi adulti dobbiamo fare per, diciamo, prenderci cura di chi è più piccolo. Esatto. Grazie a tutti.